questa è una colomba speciale perché nasce in un luogo particolare siamo all'interno del laboratorio di pasticceria del carcere due palazzi di padova dove la pasticceria giotto ogni giorno quei suoi maestri pasticceri che lavorano a fianco di pasticceri detenuti produce colombe e altre squisitezze che poi finiscono a padova e nei palati dei gourmet di tutta italia per fare una colomba ci mettiamo circa 72 ore è una colomba a lievito naturale poi scegliamo tutti degli ingredienti molto particolari proprio di prima scelta tra il burro i canditi le uova le farine non da ultimo l'ingrediente più speciale sono proprio le mani che le lavorano una d'una e che grazie a questo lavoro non la possibilità di cambiare di ritornare alla vita non la possibilità di cambiare di ritornare alla vita